L'uomo deve continuare a essere in questi chiarimenti, analisi, e tutto dipende dall'abitudine. Come io afferro la realtà, se io afferro, percepisco la realtà che quello che si scopre davanti a me è il risultato dei chiedi miei, fino a che io non vedo il sistema che è tutto legato con essa. Io non percepisco me stesso come corretto, come il nostro mondo. Noi tutti comprendiamo che il mondo è tutto un unico complesso, che tutto è legato con esso, che tutto è legato con leggi, proprio delle forze, un sistema unitario unico. Però vedi quello che si è diventato, cosa succede davanti a noi? Non comprendiamo, non sappiamo, è questa divisa e quell'altro lì lontano e noi ci troviamo in una società umana ancora di più di tutto il resto. C'è il mondo minerale, vegetale e animale, è il livello del parlante il più spaccato e rotto di tutti. Vediamo che questa mancanza di correzione è questo che la Sagittura di Caballà ci dice a noi. È la società più moderna, l'attuale. Cosa dice? Tu adesso scopri che tu ti torni in un mondo globale, integrale, anche tu devi arrivare alla condizione che è un mondo che è tondo, rotondo. e vedrai che tutti, lì vedrai che tutti le leggi e le forze della natura lavorano in adattamento, in reciprocità, tutti fra di loro. Farai su te stesso che tu sei il grado più superiore, tu sei il parlante, e più di parlante, sui il parlante e dal parlante. Il grado più elevato, connettetevi bene fra di voi, voi vedrete come tutti questi gradi che sono più bassi di voi, più di quanto loro si sistemano, si arrangiano. Tu vuoi correggere il mondo? Prego, c'è tutto davanti a te. Tu non devi fare nulla. Tu non hai bisogno di dare agli animali la possibilità di vivere, questa organizzazione, e non tagliare le alberi. No, lascia. Fai soltanto la correzione delle relazioni tra gli esseri umani. Questo è quello che è stato dato a te da fare. Fallo questo. E allora tu vedrai fino a quanto tu influenzi tutti i resti di altri gradi più bassi della natura, in forma più utile possibile. E se non lo farai questo, allora tu vedrai che nulla non servirà. Tu putterai dei miliardi alle correzioni della natura, alle varie cose con la natura, nulla non succederà. Soltanto diventerà tutto peggio. Oltre soltanto che tutto diventerà peggio. Noi viviamo in un mondo che inizia ad essere vicino alla spiritualità. Noi dobbiamo vedere queste cose, come uno si investe uno nell'altro. E sforzarci di spiegare. Fino a quanto noi si sappiamo come correggere questo mondo. Farlo. Tondo. Tutti dicono che dobbiamo fare questo. Noi sappiamo come fare questo. attraverso il fatto che noi non brucieremo qualcosa, lì, del petrolio, del gas, nulla servirà. Soltanto. È per aggirare delle cose politiche o rubare del danaro. Soltanto tutto viene fatto. Nulla da questo non riuscirà, non ricaverà nulla. Noi vediamo la realtà. Soltanto dal fatto che noi iniziamo a connetterci giustamente fra di noi, noi vedremo i risultati veri. Noi vedremo dei risultati. E sarà, questo risultato sarà chiaro, evidente, che è diventato il mondo migliore. fino a che che vivrà l'agnello con il lupo. Va bene?